La psichiatria è la branca della medicina che si occupa di diagnosticare e curare i disturbi mentali che colpiscono l'individuo. Il problema psichiatrico di un individuo può derivare da vari fattori tra cui quelli medico-farmacologici, situazioni socio-familiari e condizioni neurologiche. Lo psichiatra si distingue dallo psicologo per l'approccio medico alla situazione dell'individuo, ricercando il malessere in condizioni anomale del sistema nervoso centrale. Per diventare psichiatra è necessario conseguire la laurea in medicina e chirurgia con abilitazione alla professione, e poi la specializzazione in psichiatria. Ci si rivolge ad uno psichiatra su propria volontà se si sospetta di essere affetto da una malattia mentale, o su consiglio di una persona che vive con lei, che quindi ha notato da tempo comportamenti anomali. È sempre bene prima rivolgersi al proprio medico di medicina generale per valutare insieme le singole situazioni. Lo psichiatra può essere necessario anche per Perizia psichiatrica Certificati per la richiesta di invalidità civile I sintomi di disagio di un individuo spesse volte possono essere notate dalle persone che stanno più vicino alla persona eventualmente da curare. I principali fattori che perdurano nel tempo, e quindi possono essere motivo per rivolgersi Stai cercando lo psichiatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di UMA Innovation Iscriviti a questo canale